Salve a tutti, sono Valeria, mi trovo a Nuova Zelanda, proprio perché sono qui da un bel po' ho deciso di aprire un canale su YouTube per cercare di dare delle informazioni utili sia a chi ha intenzione di raggiungere Nuova Zelanda per un viaggio, quindi solamente per visitarla, ma anche a chi magari spera di poter rimanere qui il più lungo possibile. La mia idea iniziale era quella di aprire un blog, ma poi mi sono ricordata che prima della partenza cercavo spesso su YouTube dei video proprio perché ritenevo e ritengo ancora naturalmente che vedere un video sia un modo più diretto e efficace per farsi un'idea magari come possa essere una città per fare un esempio. Vorrei alternare dei video in alcuni e cercherò di dare delle informazioni che possiamo definire tecniche, naturalmente sulla base di quella che è la mia esperienza personale e ad altri invece girati magari per la città. I primi video saranno dei video introduttivi in cui affronterò degli argomenti che per qualcuno potrebbero apparire ovvi o addirittura banali, ma penso che sia bene di farsi un quadro preciso prima di partire. Spero che questa idea possa risultare utile a qualcuno. Alla prossima! Grazie!